Ciao ragazzi, ci troviamo al Luca Comics & Games 2022 e io e Nicoletta siamo estremamente emozionate e felici di essere in compagnia di Iman Noor. Ci sono un sacco di cose da dire. È la prima donna in assoluto ad avere diretto l'orchestra degli Oscar, in assoluto, mai fatto prima. È compositrice, condottrice incredibile, ha scritto musica e anche di videogiochi, quindi ne parleremo oggi in sua compagnia. È incredibile, sono stata praticamente a tutte le convention esistenti, ma c'è qualcosa di unico in Luca. La storia viva che ci circonda, da amanti del fantasy, fa volare l'immaginazione. È un'atmosfera elettrizzante e coinvolgente. Sono così emozionata per il concerto. Per cominciare sono stata viziata e coccolata da tutti, è stato tremendo. Esatto. I giovani artisti che suonano nell'orchestra vengono da Fiesole e sono semplicemente superbi. È stato bellissimo lavorare con loro. La loro passione, serietà e professionalità sono fantastici. Ma il concerto sarà dedicato agli spettatori e con esso celebreremo l'unicità di Luca, la città natale di così tanti grandi compositori, come Alfredo Catalani, Luigi Boccherini e poi ovviamente Giacomo Puccini. Quindi suoneremo due famosi pezzi di Puccini. Il primo, La fanciulla del West, per me è speciale perché io stessa provengo dall'Ovest dell'Irlanda e dalla costa ovest degli Stati Uniti. Il secondo è un estratto dalla prima opera del compositore, con cui vogliamo dimostrare come questa musica di Puccini, dal forte impatto emotivo, drammatica e fantastica, è l'essenza stessa di ciò che a nostra volta oggi inseriamo nelle colonne sonore di videogiochi e film. E la cosa straordinaria è che questa sera celebriamo i vent'anni di CD Projekt Red, i creatori della saga di The Witcher, insieme a Marcin Pseubovic, il compositore della colonna sonora di The Witcher 3, che condurrà personalmente uno dei pezzi più celebri della serie, Lullaby of WoW. Beh, vivo con un giocatore sfegatato di nove anni, quindi al momento mi trovo nella strana situazione di dovergli imporre di giocare meno, ma allo stesso tempo voler giocare anch'io, quindi non fare quello che faccio io, ma fai come ti dico. Anche se al momento giochiamo per lo più a Roblox e Minecraft. Ma abbiamo appena preso una nuova Xbox e arredato la sala con audio panoramico, che sì, è un po' esagerato, ma lo faccio per lavoro. Ho sempre portato avanti entrambi i sogni, ho deciso a sette anni che avrei diretto un'orchestra. Sì, ne vidi una in tv e pensai, che figata, voglio farlo anch'io. Vedi l'orchestra, la passione, il movimento, il suono, erano ipnotizzanti, non riuscivo a crederci, ma volevo farne parte. Quindi ho sempre portato avanti le due cose. A volte dirigo, a volte compongo, ma è come avere una doppia personalità. La direttrice è estroversa, la compositrice è introversa. Ed è molto strano quando mi trovo a dirigere la mia stessa musica, ma è un momento assolutamente speciale. Ed è molto speciale.